bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi purtroppo secondo giorno senza nessuna news importante per quello che riguarda il futuro di fortnite ma non per questo non dovete essere aggiornati su tutto quello che succede nel nostro battle royale preferito volevo subito ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica del mio video delle 13 e 30 ma nel video di oggi ragazzi parliamo di qualcosa di clamoroso la voce probabilmente l'avete già sentita se ne parla ne ho parlato anche io in stream ieri è successo del cheating alle fncs quindi ai tornei che sono stati svolti lo scorso weekend sabato e domenica che cosa è successo ve lo faccio vedere bene in questo video prima però la domandina e cavolo via la faccio sempre anche ieri ho letto un sacco di commenti ai livelli dai che siete alti anche voi nel livello ci faccio un sacco caso a quelli qui sotto domanda di oggi molto molto interessante ma te preferisci l'arena in duo o l'arena in trio perché anche qua è un bel dibattito molti mi dicono trio tanti mi dicono duo voglio fare un pochettino le idee più chiare scrivetemi qua sotto nei commenti quella che preferite ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito a capire che cosa sta succedendo innanzitutto i player incriminati sono quattro e per la precisione sono case slakes bachi e trio quattro giocatori che come vedete dal tabellone della classifica finale sono arrivati rispettivamente alla prima e alla seconda posizione con un distacco notevole rispetto al terzi e ai quarti 63 56 mentre gli altri hanno fatto a pari merito 40 punti perché è successo il patatrack beh ragazzi prima di dirvelo vi faccio vedere il video in modo che anche voi vi fate un pochettino un'idea grazie 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 che cosa succedeva ogni partita facevano finta tra virgolette di fightare tra di loro per uno allontanare qualsiasi altro team che potesse scendere anche allo start del game e due evitare il problema dello storm surge che cos'è lo storm surge dovete sapere per chi non lo ha ancora presente che nelle partite in competitive arrivati a un certo punto si è obbligati a danneggiare qualsiasi avversario perché perché quando non danneggi nessun avversario vieni automaticamente messo in una classifica nel gioco e se sei l'ultimo arriva un fulmine che ti fa un danno esagerato e nel giro di pochi secondi arriva un secondo fulmine che ti killa questo serve appunto per evitare che ci sia un ammasso esagerato di giocatori che magari camperano fino in endgame e magari possono rovinare le sorti della partita di chi invece ha giocato normalmente ovviamente ragazzi la community il web è un pochettino impazzito anche più di un pochettino vedremo anche un attimo che cosa ha detto ninja non sono ovviamente mancate le risposte o comunque le considerazioni sulle varie pagine twitter di alcuni giocatori famosi vediamo clicks che dice ok il ban è stato dato intanto come sanzione 60 giorni di ban quindi due mesi di esclusione totale da fortnite per questi quattro giocatori clicks dice ok il ban di 60 giorni ci sta ma è un po troppo dovrebbero in realtà ridurre il la punizione oppure mister savage dei 100 tip dice non sono stati bannati per teaming in realtà ma sono stati bannati per stream sniping in realtà anche qua è ridicolo fino ad arrivare anche a bizzle che dice è troppo è una sorpresa questi 60 giorni di ban in realtà è ipex chiude dicendo il il ban di 60 dei e di 60 giorni è un esempio per tutte le persone che pensano di poter fare una cosa del genere se fosse successo in qualsiasi altro videogioco il ban sarebbe stato permanente però si è sollevata adesso anche una questione notevole l'abbiamo vista anche noi un po di tempo fa e adesso sicuramente vi ricorderete ma voglio farvi vedere direttamente prima di dirvi di chi parliamo la clip che arriva proprio dallo stream di ieri del nostro ninja guardate un po ciao 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 sono disappointato da molti di questi bambini che possono cercare di cheat man quando non hanno bisogno Jarvis cheat in un online regular game for no money gets a full time ban fermiamoci qua ragazzi fermiamoci su queste ultime parole di ninja che sono veramente molto molto giuste vi ricordate di Jarvis il tizio ricciolino che poi fece anche il video che piangeva Jarvis è tuttora permabannato da Fortnite per aver cheatato in game durante una partita in pubblica quindi dove non c'erano money non c'erano soldi in palio ed era una semplice partita Jarvis si è preso un permabann quindi per sempre questi due tizi che hanno quattro tizi anzi che hanno cheatato in un competitive importante come una FNCS hanno preso solo 60 giorni questa cosa a me fa parecchio pensare perché mi sembra di vedere dei favoritismi e non voglio neanche capire il perché abbiano deciso di questa scelta di questa punizione ragazzi ditemi anche la vostra su questo è giusto un ban di 60 giorni o dovevano dargli un bel perma come a Jarvis io vi ringrazio per avere guardato anche oggi il video delle news mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali io sono in live sulla piattaforma viola ciao 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 ciao